ciao questo è un nuovo video che insolito che faccio sui sui film che riesco a guardare anche se questo qua è uno di quei film di animazione giapponese che si chiama proprio Wicked City la città delle bestie incantatrici che che magari anche come anche se magari come come film vecchio che come come si dice che come data d'uscita è stato magari nella prima avea del 87 l'ho voluto tipo andarmelo a recuperare perché come genere e come risulta come sotto azione o che essendo mai che risultava anche sotto oro che anche se non conoscevo conoscevo come magari come film l'ho voluto tipo andarmelo a guardare lo stesso che ho visto che magari come è il solito magari film ma che si vede che ha un po come come film come film magari di animazione ha come ha fatto magari si vede che di quegli anni libro ho visto che come trama ci poteva magari anche stare che anche un po magari un po ma è un po come si dice un po magari complessa che c'è magari è anche un po da ragionare perché come trama delle film magari parla di che per millenni la razza umana e quella demoniaca dei demoni magari appartenuti magari all'altro magari oscuro c'è questo c'è questo c'è uno magari questo scontro tipo segreto che da cui le persone normali non sono a conoscenza ma nel corso della storia dell'umanità ci sono stati molti contatti e con questo lato magari oscuro che magari come trama magari è un po ma magari un po e ci sono magari delle parti magari da capire che magari continuando magari con la trama che ci sono questi gli illuminati nel nostro mondo e dell'altro hanno sempre cercato di di armonizzare magari fra di loro scambiandosi magari idee e conoscenze imparando magari a vivere magari fra di loro magari in pace ma c'erano altre persone che magari per interesse volevano tenere i due questi due mondi magari separati e anche magari in guerra che a causa all'oggi ci sono stati magari anni di genocidi e distruzioni che alla fine e alla fine ma lì gli illuminati aumentano il loro potere in entrambi magari in entrambi i modi finché fu stipulato magari questa questa un patto ma di di nonne magari aggressione che questo accadeva molti secoli fa ma e l'ultimo trattato è stato violato magari magari parecchie volte ma alla fine del ventesimo secolo sta sta per essere magari stava stava per stipularsi magari un nuovo trattato di pace che però alcuni alcuni membri di mare del del lato oscuro non desiderano ehm che venga magari rinnovato che che magari come come stavo dicendo magari prima un po' magari come come trama magari un po' magari complessa proprio per firm per firmare questo nuovo ehm contratto viene richiamato dall'italia il dottore giuseppe mai maiato che il più grande ambasciatore della razza della razza umana che la cui presenza è fondamentale per la firma proprio delle di quelle che ha eh fondamentale per questa ehm come si dice per questa firma ma anche di questo ehm questo ehm contratto ehm di questo ehm di e deve magari del trattato così che ehm me che dopo sarà come guardata magari del corpo di questo importante personaggio vengono mai scelti e questo scelti l'umano renza e questo renza renza vuota tachi che è la questa è anche una donna che si chiama ma chi che a parte che sono appartenenti alla razza del mare del lato oscuro che ma è tutto ma come si dice ma tutto non è come sembra e dietro magari al rinnovo del trattato c'è c'è un piano c'è un piano secolare che con lo scopo ma è finale di fare interrogare queste due razze che magari come come mai come trama magari è un po magari è un po ma è complessa che magari magari come si dice facile magari da capire poi ci sono un po magari di seguire ma è bene il proprio il film anche si doveva quelle 1 e 20 più o meno di di cosa di di film però essendo mai essendoci magari questi idee questa parte magari di questo lato morale oscuro dei demoni che risultava magari come come il film avrebbe poter toccare magari la parte oro l'ho voluto tipo andarmelo mare recuperare nelle guarda lo che che loro si può andare andarselo mare recuperare siccome magari qualcuno ha qualche mare abbonamento su qualche piattaforma che ci sono ma lei adesso marello si può mai ancora e ancora mare come film è ancora mai reperibile se uno mai le può piacere mare la parte mare la parte mare dell'oro dei manga così che anche se questo qua è un film ho visto che mare come trama come trama magari ho visto che ci poteva mare anche stare anche se mare come ha fatto si che era di quelli di quegli anni libro la trama mi ha tipo mi ha tipo piaciuta anche se marei come film dell'ottanta dell'ottanta sette come film è sempre fatto da parte della riammato film della riammato video questo film film di animazione che magari magari quello che potevo dire su questo film e marello già detto che se riesco in descrizione ma lei lascio magari qualche informazione ma lei in più su questo ma lei su questo ma lei sempre su informazioni su questo film che che ma lei ci sono ma lei ha anche ma lei ho visto che ma lei ci sono altre film ma lei simili ma lei come questi che volevo tipo andarmi magari a recuperare e guardarli per avere un mio giudizio su certi film di animazione anche se anche se magari certi possono essere magari anche vecchi però e li volevo tipo andarmeli a recuperare magari lo stesso e niente quello che potevo dire su questo film e marello già detta che avevo visto che magari anche la parte delle recensioni ho visto che quelle poche crisi che ci che si possono mai trovare ho visto che ne hanno parlato bene e dico e su questo film e niente massimo a mareci e per adesso magari è quello che potevo mai dire e marello già detta e al massimo ci vediamo magari più avanti sempre con i miei con i miei timorai video che porto marelle sul sul mare sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao